Saluti ai fan di Gossip in the News. Prima di immergervi nelle ultime curiosità, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale. Siete importantissimi per noi. Un evento indimenticabile si è svolto recentemente in ospedale, con protagonisti personaggi noti per il loro impegno nel sociale. La celebre showgirl argentina, sfoggiando un costume di Pocahontas, è giunta all'ospedale insieme a Matilda Brusoni, nota imprenditrice nel campo della salute, che ha scelto di vestirsi da Elsa Di Frozen. Ad accompagnarle, Vanni Oddera, ambasciatore dei Gaslini, insieme a Renato Botti, direttore generale, e Giuseppe Pintor, direttore amministrativo. Il gruppo ha visitato vari reparti, partendo dal padiglione 20, dove hanno incontrato il personale medico, i giovani pazienti e le loro famiglie. Tra momenti di dialogo e condivisione, Rodriguez e Bruzzone si sono dedicate ai bambini, regalando loro momenti di allegria con sorrisi, abbracci e persino una canzone suonata dalla showgirl alla chitarra. «Me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di te», ha dichiarato con Mossa Rodriguez. Il Gaslini ha espresso gratitudine, Belen e Matilde per aver condiviso abbracci e sorrisi con i nostri piccoli e le loro famiglie e grazie, come sempre, a Vanni Oddera e ai suoi amici per rendere ogni visita speciale, piena di gioia e amore. Vi aspettiamo al prossimo aggiornamento, non perdete le prossime news. Ciao e a presto.